Come realizzo un desiderio che non ha un uomo? Un passo dopo l'altro cresce la mia forza e si nasprisce la stanchezza. Le braccia si alleggeriscono, spinte dal calore che sale e si arrampita in spirali di nuvole. Cado e mi rialzo. Inciampo e non perdo l'equilibrio. Cado e mi rialzo. Inciampo e non perdo l'equilibrio. Cado e mi rialzo. Inciampo e non perdo l'equilibrio. Cado e mi rialzo. Inciampo e non perdo l'equilibrio. Cado e mi rialzo. Cado e mi rialzo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.